Questa è dedicata ai commessi, io ne ho fatte tante sui commessi, sulle ferramente, però ci sono questi ragazzi che lavorano all'IKEA, che magari sai tanti universitari che lavorano all'IKEA magari nei fine settimana e questi qui si trovano a mangiare finito il lavoro, bevono una biretta come noi qui all'interno, bevono una biretta e a un certo punto dice ragazzi a me mi sono cedute, io veramente ho venduto una roba vergognosissima, è tanto che non dicevo vergognosissima, è una roba vergognosissima, perché? Io un venditore come me non ce n'è, perché? Pensate che io sono lì degli stereo, lì hi-fi, ho venduto uno stereo di livello a un sordo, bravissimo, però io mi ordite, parcello, pensa che io sono lì delle suoni chitarra e ho venduto una chitarra elettrica a uno poverino che era senza mani, pensa tu che spettacolo, monadis, pensa che io ho venduto un orologio a cucù, un orologio a cucù, c'è tutto calcedi, sì sì ho venduto l'orologio a cucù ma anche due quintali di manzime per l'uccello.